Ciao Top Driver! In questo video partiamo da una domanda. Ma quanto è decisivo, nelle tue prestazioni, un occhio che si focalizza su tutti gli elementi del circuito? Tantissimo! Avere un occhio attento quando sei in pista è una delle cose più importanti in assoluto. Ti serve per riconoscere la tua posizione in pista, individuare la presenza di uno o più avversari, prendere riferimenti come un cartello segnalatore di distanza, un palo, un bump, un ponte, individuare il punto di corda nel momento in cui stai frenando. Se non hai un occhio attento potresti trovarti in una situazione disastrosa in pista, per cui allena il tuo sguardo per essere più attento a ciò che ti sta succedendo intorno ed evitare guai.